Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi con Moversi in Toscana, ancora in studio Mauro Ciutini. Code anche se in diminuzione dopo un incidente in A1 tra Firenze e Pruneta e Cisa Reggello in direzione di Roma. La viabilità esterna non riceve sulla Firenze-Pisa-Livorno allo svincolo lastra a signa provenendo da Firenze. Firenze città, traffico rallentato sui viali di circonvallazione sia in entrata che in uscita. Passiamo alle statali sulla 62 della Cisa, rallentamenti lavori prima di Montelungo in direzione Sarzana. E per quanto riguarda i lavori a Firenze, domani mercoledì la videoispezione di una fognatura nel tratto via Filippina-Via dei Bentacordi dalle 8.17 in vigore. Un divieto di transito per chi viaggia domani in Toscana, il tempo previsto, sereno e poco nuvoloso, addensamenti di tipo basso su costa e al Cipelago in mattinata. È tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buona serata.